Ciao, siamo Vale e Orri. Oggi vi faccio i crostini saltati in padella a modo mio. Ingredienti per crostini saltati in padella. Pane casereccio raffermo, olio di oliva extravergine e sale aromatizzato che ho precedentemente preparato. Vi lascio il link della ricetta in descrizione. Taglio il pane a striscioline. Inizio a mettere i crostini in padella fredda. Ho acceso il fuoco, alzo la fiamma, metto l'olio, metto il sale aromatizzato. Un attimino che friggi. Adesso quando sono belli caldi li giro. Sempre a fuoco alto, mettiamo ancora un pochino di sale aromatizzato. E li riguriamo ancora. Ok, perfetto. Sono pronti. Spengo il fuoco e li metto nel piatto. Questi crostini li potete utilizzare per un aperitivo, per dei passati o semplicemente per un brodo. Questi sono i crostini saltati in padella, fatti a modo mio. Buon appetito! Vi sono piaciuti i crostini saltati in padella? Se vi sono piaciuti, fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Mettete il like, condividete e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale e cliccate sulla campanella per non perdervi gli aggiornamenti sulle prossime ricette. Ciao e buon appetito! Ciao, alla prossima! Ciao!